Ora, chiederei ai convenuti, ai relatori, di salire sul palco, li chiamo Michele Colombo di Cribis, Maurizio Guermandi di Guermandi Associati, Maurizio ci sei? Si è perso Maurizio? Eccolo, è giù in fondo, fa finta di fare l'ultimo e invece è sempre il primo, nel senso che è sempre molto in vista, visto che costruisce anche siti web oltre che tante altre cose, Alessandro Summa, MT Distribution, Alessandro Nalmone di Emerson Network Power Chloride e Giada Cevenini del Frecciacledby Bologna. Io lascerei subito la parola a Michele così andiamo a sprombattuto. Bene, prego. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, io sono Michele Colombo di Cribis DMB e vi parlerò di questo argomento, quindi della lead generation e il customer engagement come pilastri della costruzione di un brand nel mondo dei servizi B2B. Allora, prima di tutto chi siamo? Questo è preso da uno studio dell'associazione dei fornitori di business information degli Stati Uniti, le informazioni che ci sono, come dire, in questo caso negli Stati Uniti, sulle aziende. Il nostro ruolo è, come dire, in Italia, ovviamente noi lo proviamo in Italia, raccogliere tutte queste informazioni, dargli una struttura, come dire, coerente, strutturarle e rendere disponibili alle aziende. Le informazioni che noi produciamo sono quelle che, diciamo, tradizionalmente vengono chiamate informazioni commerciali e, diciamo, hanno il ruolo di inserirsi in alcuni processi aziendali in modo da facilitare, come dire, le procedure interne delle aziende e soprattutto la presa di decisioni. In questo aspetto, come dire, appunto, tradizionalmente il nostro referente era parte di chi si occupa del credito commerciale, quindi di chi deve concedere in qualche modo delle direzioni di pagamento a delle altre aziende. Quindi il nostro è un mercato prettamente B2B. Però, sempre più queste informazioni hanno assunto altri significati, ad esempio, appunto, per la lead generation, quindi l'area commerciale e marketing, piuttosto che anche per la gestione degli acquisti, piuttosto che per le partnership all'estero. Quindi informazioni che entrano nei processi aziendali per prendere delle decisioni. Ok, questo che vedete sono i risultati, come dire, di un osservatorio che noi facciamo a inizio di ogni anno sui driver del marketing B2B. Proprio per questo, per noi, come dire, chi si occupa di marketing e di vendite è un'area di acquisto dei nostri servizi in grande crescita e quindi facciamo questo osservatorio. E abbiamo chiesto tante cose. Qua abbiamo sintetizzato due che sono particolarmente importanti. Su cosa sono valutati i marketing B2B? Quindi su cosa sono valutato poi, alla fine, anch'io che mi occupo del marketing di questa azienda? Cioè sui cavi e sugli acquisti di nuovi clienti. E come ci valutiamo noi stessi con, appunto, nuovi clienti e con il livello di fedelizzazione? Questo già ci dice, come dire, quelle che sono delle peculiarità del marketing B2B. C'è un forte legame con la vendita. Alla fine il marketing B2B, anche quando si occupa di brand awareness, anche quando si occupa di reputazione, di customer service, alla fine il suo scopo è dare, come dire, o dei lead all'azienda, nuovi clienti, piuttosto che nuove opportunità su clienti esistenti, oppure fidelizzare i clienti acquisiti sempre nell'ottica di non perderli, e anzi possibilmente di crescere. Quindi un legame molto più stretto con la vendita rispetto al marketing B2B. Questo come, sempre partendo da questo osservatorio, come si traduce a livello di, cominciamo, strategie di marketing e di strumenti? Noi li abbiamo sintetizzati in questi due elementi, contenuti e luoghi. Cioè, nel senso, gli strumenti alla fine che si mettono in campo per facilitare questo processo di attivazione delle vendite, significa creare dei contenuti di interesse per i nostri clienti e creare dei luoghi di incontro. Questo ad esempio è la tipica, come dire, iniziativa che anche noi facciamo per il marketing B2B. Portare delle aziende a confrontarsi su dei contenuti, perché questo rispetto, come dire, al marketing B2C, dove anche l'acquisto è di solito un po' meno strutturato, nel marketing B2B, se uno vuole creare dei lead, se vuole fidelizzare il cliente, deve discutere di cose, quindi creare dei contenuti, e poi deve creare dei luoghi dove, appunto, se ne possa parlare, che poi siano, come dire, reali o virtuali, però, come dire, quindi l'incontro, la relazione, che è molto importante, appunto, nel marketing B2B. Quindi questa è una domanda che è emersa dalla survey, domanda, nel senso che dopo la survey è rimasta come domanda aperta, in realtà. Cioè, nel marketing B2B è necessario sempre fare qualcosa di nuovo, essere sempre, come appunto, new, perché il marketing di per sé ha come elemento fondante fare sempre cose nuove, cercare di essere sempre più innovativo, più nuovo, eccetera. E questa è una domanda, in realtà, che è un po' aperta, nel senso che da questi strati della survey, ad esempio, tutti dicono che i social media sono il futuro per fare lead per il marketing B2B, ma poi nessuno sa né come misurarli, né come poi tradurre quello che avviene su questi social media in un lead, in qualcosa che crei. Che crei poi alla fine del business, perché noi siamo valutati sui ricavi e sui nuovi clienti, non siamo valutati su altre cose. Ok, parliamo di offerta di servizi. Questa, come dire, è la storia di Cribis DMV che adesso, diciamo, percorrerò velocemente, perché è un buon esempio di un mercato che da prodotto è diventato servizio. Noi nasciamo nel 2009, quando il gruppo CRIF, che è un gruppo, diciamo, specializzato di informazioni che di tizie, anche con, diciamo, molte filiali internazionali, ha acquisito la branch, cioè la filiale italiana, di Dun & Brass Street, che è una multinazionale americana di informazioni commerciali. L'ha acquisita e l'ha integrata con i propri, diciamo, con quello che era la propria realtà specializzata nel mercato italiano. La prima cosa che è stata fatta in questa acquisizione è stato investire sul prodotto. Cioè, in realtà, da questa acquisizione, l'azienda ha, come spesso succede, diciamo, dopo le acquisizioni, fatto un forte investimento in prodotto per migliorare, diciamo, quella che era la propria offerta, ma a livello proprio di prodotto. Nel nostro caso è significato acquisire tantissimi dati, quindi parliamo di investimenti per milioni di euro, quindi c'è uno sforzo significativo, e, come dire, anche ridisegnare tutta la struttura dei database con cui questi dati dialogano, che per noi è un po' come dire, non so, il design per le auto, cioè nel senso è un aspetto imprescindibile. Quindi abbiamo lavorato sul prodotto. Però in realtà il nostro è un mercato dove il prodotto, nonostante i nostri sforzi per differenziarlo, è un prodotto che, ahimè, si sta molto avvicinando alla commodity. Cioè, noi vediamo informazioni, e infatti è anche un mercato che si sta, alla fine sono rimasti due soli grandi operatori, noi e il nostro competitor, quando fino a dieci anni fa ce ne erano decine, perché appunto è un mercato maturo che sta andando verso la commodity. Quindi qual è l'elemento differenziante? Per assurdo, noi abbiamo speso milioni per rifare il prodotto, ma alla fine ci differenziamo con elementi di servizio, cioè come il nostro cliente può utilizzare queste informazioni all'interno dei suoi processi. Quindi molte volte a fare la differenza tra noi e i nostri competitor sono più come rispondere al customer service, o se il nostro servizio può monitorare bene quelle informazioni che a lui servono. Quindi componenti di servizio. Noi per questo abbiamo lanciato, ovviamente, anche un prodotto che però ha, diciamo, questo elemento del servizio nella sua stessa natura. Quindi se prima erano informazioni, adesso sono diventati servizi. Questo è un bel passaggio, anche dal punto di vista dell'organizzazione interna, cioè anche la nostra forza vendita, come abbiamo detto, il marketing B2B vuol dire stretto legame con la vendita, abbiamo dovuto anche, come dire, ridefinire, lasciatemi il termine, resettare anche la mente dei nostri venditori e cambiarla, perché loro avevano sempre venduto prodotti e non servizi. Bene, questo, diciamo, nel 2012 abbiamo finito appunto la suite di servizi e nel 2013 ci siamo trovati un po', come dire, in un momento di... avevamo, come dire, completato l'offerta, ci eravamo riposizionati e abbiamo dovuto, quindi, come dire, come marketing abbiamo abbandonato un po' l'aspetto comunque di prodotto-servizio, di offering, e ci siamo concentrati proprio sull'aspetto di... che c'è più specifico, cioè di lead generation e di customer engagement. E quindi, questo che vedete è un imbuto. Allora, diciamo, nel B2B di solito il processo di marketing visualizza, è visualizzato come un imbuto, cioè io devo mettere dentro un imbuto tanti lead, cioè tanti potenziali opportunità. Poi pian piano faccio delle azioni per trasformare queste opportunità in contatti concreti. Più l'imbuto è largo, tra virgolette, e più lead metto dentro, più sono bravo, più è stretto, più sono meno bravo, ovviamente. In realtà, però, noi siamo in un mercato, come dire, che ha... ha due caratteristiche negative. Uno, che è un mercato che non cresce, nel senso che le aziende non ci sono nuove aziende, nostre potenziali clienti, anzi, il mercato si riduce. In più, la competizione è sempre più forte, e la competizione è sempre più forte, quindi noi però, per vivere, abbiamo bisogno sempre di acquisire nuovi clienti, quindi abbiamo bisogno di crescere, ma strappandoli ai nostri competitor. Per questo l'imbuto è diventato un po' l'esigenza, un megafono. Cioè abbiamo avuto bisogno, come dire, è vero di trasformare i lead in contratti, ma abbiamo avuto in qualche modo di aumentare il più possibile i lead, perché, come dire, aveva bisogno di crescere, di fare nuovi contratti. Questo ci ha portato un po', ecco, questo diciamo è quello che vi volevo dare, sono diciamo concludendo, come un po' framework dell'attività del marketing B2B. Da un lato abbiamo, torniamo ai due elementi che abbiamo visto fondamentali, contenuti e luoghi. Abbiamo prima di tutto aumentato il più possibile i luoghi, quindi abbiamo fatto una grandissima attività di eventi e workshop in cui abbiamo, come dire, un successo molto, molto elevato. Tenete conto che noi abbiamo fatto, facciamo un convegno annuale a Milano per il corso di 24 ore dove presentiamo i risultati sui pagamenti i primi di maggio. In quattro anni siamo passati da 400 iscritti a 1000 iscritti. Questo perché, un po', perché siamo bravi noi, questo è evidente, però anche perché, come dire, l'interesse di parlare di questi argomenti, l'interesse dei nostri clienti di confrontarsi su un tema come quello dei pagamenti era aumentato tantissimo. Quindi noi abbiamo prodotto contenuti, quindi come le aziende pagano e abbiamo proposto luoghi dove confrontarsi su questi contenuti e questo ha pagato perché in realtà noi abbiamo prodotto tantissimi lead e siamo riusciti anche appunto in un mercato così concentrato a incontrare aziende che di solito non ci rispondevano perché tanto voi vedete le solite cose degli altri e invece questo strumento è stato molto apprezzato e ha creato molto interesse. L'altra cosa che vediamo è il CRM e questo CRM noi abbiamo investito molto su questo strumento di CRM appunto perché noi poi abbiamo una struttura di vendita distribuita sul territorio più di 150 venditori quindi come dire abbiamo una forza vendita importante su cui è importante bisogna riuscire a dialogare perché se no si rischia che da una parte diciamo la direzione che siamo noi fa una cosa e poi la struttura vendita non è allineata secondo dei servizi e l'ultima parte abbiamo investito molto appunto su quelle che sono le nuove tecnologie che a nostro edificio si stanno rilevando interessanti proprio perché riescono un po' a riprodurre questa esigenza di confrontarsi quindi mettendo su un sito dei contenuti poi alla fine si iscrivono in molti noi stessi siamo rimasti stupiti del numero di persone che scarica delle nostre analisi sui pagamenti a cui noi avevamo sempre dato anche una modesta importanza in realtà sono apprezzatissime appunto perché poi alla fine nei mercati B2B il contenuto è quello che a fine serve anche per fare reputazione più che la pubblicità piuttosto che altre iniziative questo è il risultato a qualche giorno fa del 2013 in cui noi abbiamo fatto più di 26 convegni e workshop quindi quando dire sviluppare luoghi è un investimento importante oltre 120 contenuti originali e 2400 lead tenete conto che nel nostro mercato di riferimento la parte nobile cioè quella che ci può dare risorse importanti sono 20.000 aziende in tutto un 40-45.000 quindi come dire 2000 vuol dire il 10% quindi ovviamente abbiamo messo dentro il famoso imbuto molti lead e adesso qualcuno ha già come dire dato dei risultati qualcuno li darà ovviamente nel tempo perché devono crescere direi che ho concluso quindi questo diciamo è il ragionamento la sintesi cioè che per noi che siamo nel B2B per il ruolo del marketing deve essere alla fine quello di generare e attivare opportunità e appunto azioni commerciali questo è il ruolo diciamo di un marketing B2B maturo che possa effettivamente poi non essere solo una cosa come dire solo un po' slegata da quello che è il business bene grazie grazie Michele a rinforzare quello che ha detto Michele in CRIF non c'è una grande cultura del marketing ma in CRIVIS con Michele Colombo e Fabio Lazzarini e Claudio Temeroli che ho visto qui tra i presenti c'è una forte unità dal punto di vista delle idee del marketing e da questo punto di vista anche si è creata un'organizzazione che ha permesso di raggiungere un certo tipo di risultati grazie comunque Michele per essere venuto al volo e a fare questa presentazione che hai fatto benissimo ti ringrazio